Io credo che debbano cadere tutti i veti, ma contemporaneamente non dobbiamo sbagliare. L'esito del voto delle amministrative e lo straordinario risultato del referendum dice che la prima alleanza che un nuovo centrosinistra deve fare deve essere con i giovani precari, con il mondo della rete, con le donne, con quella spinta sociale molto forte a rinnovare il nostro Paese.